ohhh biro è in懂 la catena ma ora me la metti su te me la ha messo su te la catena dani guardami dani ehi un casino oggi ekay a'mbiro Biro è un'intervista, com'è andata la discesa? Bene come un cazzo Cosa sta facendo adesso? Sto sottotitissimo, precazzo Cosa sta facendo il meccanico?